Volevo presentarvi Lorenzo che questa mattina ha deciso di parlarci degli errori della cyber, gli errori di vita fate voi, perché anche la cyber è un errore di vita, sempre e comunque. Lascio la parola a te dai. Ciao a tutti, buongiorno, scusate solo il timer per stare bravi e via. Ciao a tutti, buongiorno, sono Lorenzo e non buco più niente da 30 anni. Frequento il settore da qualche anno, questo è il mio primo Mocha in realtà. Faccio parte di quei pochi fortunati che quando la mia generazione toccava un Commodore 64, avendo un padre che lavorava all'IBM mi è toccato un PC XD e questo ovviamente ha significato avere più strumenti, più cose e più possibilità, al quale poi a un certo punto ho attaccato un modem A300 fatto da uno strano zio che saldava roba vicino a Mantua e faceva i modem e da lì la connessione BBS, Fidonet, Itapack, molto Itapack. E poi a un certo punto Internet. Ho cominciato a lavorare da un provider, uno dei primi provider piccolini italiani artigianali, dove ho avuto alcuni dei due, due dei miei mentori professionali particolarmente importanti e rilevanti e lì ho cominciato un po' a esplorare, fare varie cose, fino a quando, avanti veloce, dopo una fase di sperimentazione, nel 2003 faccio un master di Information Security Management, dove conosco alcune delle persone che stanno anche qua, che sono diventati amici e capisco che era finita l'epoca di esplorare i computer altrui, ma bisognava cercare di far qualcosa per proteggerli e cercare di farci anche un po' di business. Oggi faccio il Ciso a pezzettini, una versione economica, se vuoi avere un pezzo di Ciso puoi comprarmi e faccio anche Digital Forensic. Più che una presentazione strutturata, questo è un flusso di coscienza, una serie di errori, di idee, di cose che ci sono sembrate buone nel tempo, alcune le ho fatte io, alcune le ho viste fare e che riviste oggi fanno riflettere. E per partire per questa missione nel Far West, chiamiamo due dei compagni di viaggio che sono Blondi, Tuco e Sentenza, che sono i personaggi che ci daranno dei buoni consigli durante il nostro viaggio. Vedremo quelle che sono illusioni passate, perplessità presenti, incertezze future e un po' di cicatrici. Racconteremo appunto episodi. Questa è una prima cosa che impari perché il mondo non è fatto solo di cose tecniche ma è fatto anche di aspetti di business e quindi non devi parlare solo la lingua tra tecnici, tra di noi, ma a un certo punto per fare delle cose ti servono dei soldi, li devi andare a chiedere a qualcuno, li devi chiedere nella maniera giusta e soprattutto gli devi far capire che quella strana tecnologia, quella strana buffa cosa che per te indispensabile salverà il mondo e renderà tutti più sicuri ha dei soldi che qualcuno ti deve dare, non sono tuoi. Autoinganni. Cose che a un certo punto ho provato, ho visto, ho fatto. Ho preso la certificazione per la 27001 quando ancora si chiamava BS7799. Ho detto, mamma mia, sono uno sfigato, mi piaceva fare le cose tecniche, adesso sto studiando le cose della compliance, che pessima idea, diventerò brutto e passerò dall'altra parte. L'ho tenuta lì per 15 anni, non ci ho fatto niente ma l'ho continuato a rinnovare perché dicevo, un giorno forse sarà una buona idea, poi a un certo punto è diventata una buona idea. Ma vista con l'approccio hacker, cioè non facciamo le cose della compliance polverosa, ma usiamo gli argomenti della compliance polverosa per portare le cose tecniche fiche, perché a quel punto gli metti paura e la gente si convince a farti fare le cose fiche. Ma se non parli della lingua loro e la lingua loro è fatta di una polverosa norma, non ci riesci. Oppure a un certo punto abbiamo usato VNC per collegarci sui computer remoti, sembrava, per un po' sembrava una buona idea, era un sistema insicuro, e poi però c'è stato RDP, c'è stato SolarWind, quindi occhio, sono cose che cambiamo una con l'altra, una soluzione tecnologica una dopo l'altra, ma sono tutte soluzioni che poi alla fine, come tutte le cose tecniche, hanno dei loro pro e dei loro contro che vanno considerati. Il virtual pinpad è stata una cosa fenomenale, una banca per risolvere il problema del keylogger aveva chiesto ai propri utenti di digitare il pin, invece che sul tastierino numerico, premendo i tasti che hanno il segno sopra, di prendere il mouse e digitare su un tastierino numerico a video il pin. E fino a questo già è abbastanza una cattiva idea, perché usare il mouse al posto della tastiera crea dei problemi di usabilità. Ma per rendere questa cosa assolutamente contro gli attaccanti cattivi, i tastini con i numeri si spostavano, ogni volta. Per cui per digitare un pin, tu devi avere una coordinazione mano, occhio, testa, e trovare dove erano i numeri giusti. L'approccio hacker è provare un numero sufficiente di tasti sbagliati, bloccare un numero sufficiente di conti, costringere a fare un numero di reset di questi pin abbastanza alto, fino a quando qualcuno ha deciso che questa cosa era da togliere. Perché la frizione che creava sugli utenti, e gli utenti sono quelli che poi mandano avanti il business, doveva dimostrare che questa era una soluzione assolutamente sbagliata. sia dal punto di vista tecnico, perché lo sapete bene oggi, che i logger così, no, c'è roba molto più sofisticata, e si ha, per altre ragioni. Network loop. Se pretendi di fare le reti, ma non conosci tutte le regole per fare una rete, a un certo punto qualcuno ti insegna come si fa una rete. Per esempio qualcuno che ti attacca un cavo in loop da una parte all'altra, e butti giù un'intera università per due giorni, fino a quando non hai girato tutti. C'è qualcuno che ha fatto un segno con la mano? Grazie fratello, non mi sento solo. Se qualcuno, man mano che racconto cose le ha fatte anche lui, può alzare la mano, io non mi sento solo. E ci abbiamo messo due giorni a capire dove era la plug, che era stata alluppata, e non funzionava più assolutamente niente. Tutto questo, rimanendo sempre vigili, Tucco ci ricorda che i 3-tactor ci sono quelli che arrivano dalla porta, quelli che arrivano dalla finestra, e noi dobbiamo stare comunque attenti. Nelle perplessità presenti c'è ovviamente quello di trovare dei compromessi tra la pianificazione, le esigenze di business, ma anche pecciare, e se tu posponi, 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 a un certo punto qualcuno ti entra dentro casa, sta lì, aspetta che è il tuo venerdì, che stacca il turno, che è ferragosto, e via, e brasano. 31 luglio 2021. Stiamo facendo bene? Bah, alcune cose che ho visto succedere recentemente, piccole o grandi che siano, mi dicono, bah, no, alcune cose non le stiamo sicuramente facendo bene, e parlo come comunità nel senso più ampio possibile. Sicuramente la centralizzazione della security ci ha dato una lezione recentemente, il caso di CrowdStrike, indipendentemente dalle ragioni tecniche, da quello che si poteva fare, se quello ha sbagliato, se come è stato rilasciato il codice, se bisognava avere un piano di business continuo, ci sono tanti se, ma il fatto che per alcuni giorni l'universo mondo si è piantato, questo ci deve far rivedere come alcune cose probabilmente non sono delle buone scelte, o possono essere delle scelte, ma fatte consapevolmente, non le abbiamo fatte consapevolmente. La gestione del rischio, come viene fatta oggi, è assolutamente secondo me una follia, nel senso si preferisce in azienda esternalizzare il rischio, il che vuol dire non prendersi la responsabilità, trasferire l'altro, in ottica di business questa cosa può essere anche una cosa comprensibile, da uomo di security, troviamo dei compromessi, spingiamo da dentro perché certe cose vengano fatte in maniera un po' più consapevole. Esistono delle iniziative che vorrebbero aiutare le aziende a investire in cyber security, esiste il voucher digitale, esiste l'innovation manager, esistono tutta una serie di iniziative fatte da vari governi, che vorrebbero appunto incentivare e aiutare soprattutto le piccole e medie imprese, soprattutto le piccole e le micro, che non hanno chiarezza di una certa di cose, aiutarle a investire. Ecco, due giorni fa c'era l'apertura di questo bando dei voucher digitali, gateway timeout, dump degli errori di Java, non si riesce a trovare, se c'è qualcuno qui dentro che conosce chi ha sviluppato l'applicazione delle camere di commercio, mi venga a cercare dopo, non si riesce a trovare una soluzione a un problema semplice, e lo riporto da Aker. Le camere di commercio hanno trovato due modi per aiutare le aziende a chiedere questi fondi, carichi tutta la pratica prima, nei giorni, e un certo giorno fai il click day. Il click day è stato accherato da qualcuno che il giorno del click day manda mille richieste e chiude mille domande che erano state caricate prima. Questo funziona benissimo tecnicamente perché l'applicazione di merda non si pianta, ma funziona malissimo dal punto di vista della giustizia della distribuzione di questi incentivi, perché vanno mille nelle mani di chi si è fatto lo script. Dall'altra parte, se fanno caricare tutta la pratica il giorno dell'apertura delle domande, il sistema va giù, perché non è in grado di registrare qualche migliaio di pratiche caricate. Queste sono tecniche di sviluppo delle applicazioni sbagliate, insicure, ma che hanno una penalizzazione sul nostro mondo, perché per aiutare le aziende a fare degli investimenti bisogna anche magari trovargli i soldi, se per trovargli i soldi si passa da queste situazioni qui, ci si fa male. E l'altra cosa, ovviamente da uomo che è stato, sta a metà un po' tra la parte più operativa e la parte più di governance, risk e compliance, ovviamente c'è un momento di critica verso la checkbox compliance, io vengo spesso chiamato a dire, facciamo il questionario e diciamo che siamo bravissimi, facciamo un punteggio stupendo, e dico no, non possiamo fare un punteggio stupendo, questo è sbagliato, questo è falso, ma tu dici che facciamo le cose benissime, non si può fare così. Ma la compliance non è nostra e vostra nemica, cerchiamo di creare delle sinergie e far capire a chi fa compliance pura che c'è una parte di security operativa che porta dei vantaggi e viceversa. E qui di nuovo Blondi ci aiuta, c'è chi ha il budget e chi viene bucato. Nelle incertezze future ci sono questi quattro argomenti di cui vi voglio parlare, sicuramente c'è un tema di specializzazione, ci stiamo iper specializzando, ci stiamo dividendo in delle micro tribù, ci sono alcune persone tra di voi che fanno dei mestieri che io non capisco, ve lo giuro, ho sentito cose che dico ma è la stessa roba? Sì, va bene così, ma è bello che in eventi come questi ci incontriamo, ci conosciamo, ci contaminiamo, capiamo cosa stanno facendo gli altri e capiamo come collaborare e aiutarci. La specializzazione è inevitabile, ma le basi servono ancora? C'è chi dice che si può fare cyber security senza sapere gli stack di base, perché dice ormai io mi occupo dell'iperuraneo, quindi di certe cose posso farne a meno. Io non lo so qual è la soluzione. Avendo fatto un po' tutte le stagioni, io credo che le basi servano, ma può essere che sia semplicemente un pregiudizio. Avevo un pregiudizio, e ce l'ho ancora, su come intelligenza artificiale e machine learning possano portare un valore concreto ad alcune delle cose che stiamo facendo, in questi giorni ho visto delle cose che mi hanno un po' solleticato, ho detto ma forse c'è qualcuno che sta lavorando a delle cose concrete, perché vista dal lato business è piena di fuffa, l'intelligenza artificiale è sicuramente vista come la soluzione a tutti i mali. Lato tecnici, rompiamo le scatole, non cerchiamo di impedire che qualcuno si compri la roba che c'è scritto l'intelligenza artificiale solo perché è così. Mettiamoci la testa, andiamola lì a sfidare certe cose e a capire se è intelligenza artificiale o se è solo un if messo random ogni tanto. NIS2, lato business è una cosa che sta smuovendo molti interessi, questo vuol dire che porta interesse dappertutto, cioè NIS2 rismuove il nostro settore, sicuramente farà fare molte attività a tanti di noi. Praticamente c'è da chiedersi se sarà un nuovo GDPR che due o tre anni dopo la febbre iniziale sarà qualcosa di effettivamente di valore oppure no. Nel frattempo mettiamoci in testa questa sigla perché farà lavorare tutti abbastanza. e il senso della community. La community per me sono un po' un outsider, sono uno che conosce tutti ma non è conosciuto da nessuno, c'è questa strana sensazione di sentirvi tutti amici, poi quando mi presento io so il nome dell'altro e l'altro non sa quello mio, è un po' anche l'illusione dei social, però io credo che la community sia estremamente importante. Mi chiedo come sarà il MOCA 2044, quindi una prospettiva e un augurio di buona vita al MOCA nel futuro. Di sicuro quello che mi piacerebbe vedere nel MOCA del futuro è una maggiore rappresentatività, è una maggiore diversità. Su questo palco sono passate più di 30 persone e la maggior parte erano uomini. E per tornare ai nostri amici questo è il triello e quando tre parti in contrasto tra di loro devono prendere una decisione. Da una parte c'è il business che dice non si ferma mai, dall'altra c'è l'IT che dice devo far contento il business e dall'altra c'è la cyber security che dice se non pacciamo ci bucano, se non pacciamo ci bucano, se non pacciamo ci bucano. Solo quando o il business viene un attimo placato o l'IT c'è una buona collaborazione finalmente si riesce a pecciare. Arriviamo alle cicatrici. Cicatrici sono esperienze, cose che sono successe nel corso di questi anni. Una che mi ha fatto molto male, è una cosa che è successa a me. Ho gridato al data breach ma in realtà era un garbage collector. Ero in un'azienda, un collega aveva pensato di introdurre come sistema di identificazione delle anomalie una cosa che faceva così. manda una mail ogni volta che un file viene cancellato. Ok? Pausa. Poi un giorno qualcuno succede una cosa e arriva un avviso da Google che dice il tuo sistema è oggetto di un attacco. Stanno arrivando un milione di mail. Oh, che strano. Mi sto inviando un milione di mail da solo. E come mai mi sto inviando io a me stesso un milione di mail da solo? Eh, sono stati cancellati un milione di file. Così. Un momento di paura. Il giorno dopo che un dipendente era stato cacciato malamente. Ecco che siamo passati da oddio siamo sotto attacco a oddio uno si è piallato completamente tutto. quindi andiamo a cercare questo che è andato via e facciamogli facciamogli capire che ha fatto un errore. E non era neanche questo. Quindi prima ce la siamo presa perché avevamo un attacco poi ce la siamo presa perché pensavamo che avevamo un dipendente infedele e poi invece abbiamo scoperto che una persona aveva fatto pulizia di un vecchio archivio un mese fa e che a un certo punto Google aveva svuotato il cestino dopo un mese. E quando Google ha svuotato il cestino un mese dopo ha generato un milione di di avvisi ed è successo tutta questa cosa. Ecco certo spiegare 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 al mondo spiegare al mondo questa cosa non è stata esattamente semplice. Non fate progetti di 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 multiple factor authentication senza che vi siete fatti giurare da tutto il top management che loro faranno l'onboarding della multiple factor authentication che sono le figure che volete preservare voi l'avete fatto a tutti a qualche migliaia di persone dell'azienda e cinque persone ancora si ostinano a non averlo. Cercate di cercate di così osservare quando la sindrome dell'impostore interviene è una cosa della nostra nostra categoria siamo tutti puntati a celebrare i successi puntati a celebrare delle grandissime cose tecniche meravigliose delle grandissime scoperte non è sempre così abbiamo studiato tanto abbiamo fatto delle cose interessanti prendiamoci lo spazio per sicuramente per condividerle sicuramente la la sindrome dell'impostore è una delle cose che mi ha tenuto un po' lontano dalle community perché rispetto a gente che fa reverse engineering io mi sento uno sfigato è una cosa che non capisco che non ce la faccio però poi ho deciso andiamo lì e raccontiamo delle cose buffe e il burnout il burnout è un'altra cosa di cui secondo me si parla poco nelle community e il desiderio di fare meglio di dimostrare a tutti che la security poteva avere un valore in azienda poteva fare un sacco di cose belle non era solo un costo non era solo un covo di rompiscatole che fermano tutto bloccano tutto questionano tutto ecco a un certo punto però mi ha creato delle delle difficoltà personali e gestirle queste cose ovviamente ha richiesto tempo secondo me la comunità è importante raccontarci certe cose è un modo per poi aiutarci a un certo punto il burnout succede a molti di noi sia per quello a cui siamo esposti sia per le responsabilità sia per quello che se fai digital forensic ti capita di vedere ci sono cose che nessuno di noi vorrebbe mai vedere invece sanno parte del tuo lavoro ma parlarne aiuta a trovare dell'aiuto e a farla venire fuori questa cosa e con questo e con questa massima di tucco io concludo e vi ringrazio per aver sopportato e supportato questo flusso di coscienza ma se lavori per vivere perché cerchi di ammazzarti lavorando ciao sono Lorenzo domande dubbie beh intanto grazie un sacco di spunti tra i mille spunti che hai tirato fuori in tante dei fallimenti delle cose che hai riportato vedo il tema dei perversi incentives quindi incentivi perversi ovvero che ti incentivano a continuare su un percorso che tutto sommato sai che non sta funzionando il budget fatalmente cosa succede lo spendi tutto anche se non ti servirebbe perché sai che il prossimo anno se ne hai chiesti 100 ne spedi 50 il prossimo anno ti dicono vabbè partiamo da 50 e te ne diamo 40 in questo senso hai trovato delle cioè diciamo ci sono secondo te dei modi per diciamo influenzare soprattutto top management a cambiare un po' la prospettiva su degli incentivi che magari stanno lì da anni che le persone fanno le cose così ma poi tutti ci rendiamo conto che sono perverse in quel senso allora qui c'ho due due cose una è un po' educarli e portare la gestione del budget su alcuni KPI quindi in modo dico delle cose brutte aziendali ma dici guarda tu mi hai dato il budget per farci queste 4-5 cose questa ha funzionato ti chiedo più budget per questa questa non ha funzionato facciamo meno ma la somma deve continuare a fare il totale un'altra è barare un po' quindi farsi dare del budget e poi usarlo per cose sensate iniziative di formazione iniziative parallele raccontandole con un cappello la soluzione però quella vera strutturale non non ce l'ho ho trovato degli scamotage due domande una più semplice più piccolina in pratica all'inizio dicevi che hai lavorato per un provider negli anni 94 94 90 per caso people nexus nexus di roma andrea mazucchi per chi lo ha conosciuto mi mandarono a fare il corso del dns a pisa io gli sono infinitamente grato seconda sul piano umano burnout lo conosco quindi ho avuto modo di conoscerlo se puoi approfondire per coloro che magari sono qui che ancora non hanno toccato questo fenomeno che è criminale micidiale è molto difficile esporlo io non avrei capacità di esporlo e magari evidenziarlo a coloro che stanno per arrivarci e non lo sanno ancora se hai questa possibilità non è una pretesa eh ovviamente il grazie questa è è una domanda molto bella a cui non so dare una formulazione una formulazione precisa è una risposta precisa sicuramente bisogna ascoltarsi molto sicuramente bisogna avere molto avere un freccia rossa che passa no è un è un merci è un merci lo ascolto è un merci lo ascolto no era troppo era no è freccia o 6 o 10 7 o 10 facciamo i nerd dei treni no dicevo il il tema una delle cose è cercare di non identificare le proprie passioni nel proprio lavoro e differenziarle a me mi ha fregato questa cosa cioè la mia passione totale è diventata il mio lavoro e la passione resta i lavori vanno e vengono e se a un certo punto il tuo lavoro vieni il tuo lavoro viene a mancare o decidi di interromperlo perché è e tu non sai più chi sei e invece se hai delle altre passioni e che non tutte fanno parte del tuo lavoro questa è una cosa che ti aiuta ad appoggiarti come in una bella chiacchierata che ho fatto con un amico ieri ad appoggiarti sulle altre cose che sono tue passioni fanno parte di te ma non sono per forza il il tuo il tuo lavoro Lorenzo io ti sono grato personalmente per aver parlato di burnout e perché mi sono ritrovato in parecchi di queste cose perché più o meno faccio lo stesso mestiere ti consegno il simpatico cadeau posso chiedere una foto commemorativa a un amico grazie se non grazie grato infinitamente del burnout è brutto da dire ma è così però qualcuno la doveva dire questa cosa sono difficili è brutto da dire è brutto da dire